Buongiorno ragazzi bentornati al canale come sempre giù di muscolo a vita abbiamo fatto il challenge ieri e praticamente non abbiamo mangiato nient'altro perché veramente ci ha bloccati ragazzi sia io che Sammy siamo andati e siamo rimasti a dormire 2-3 ore subito dopo il challenge ci ha distrutto comunque quindi oggi giorno seguente cosa faccio? stiamo andando a fare colazione in questo momento sono le 11 o le 12 io però non faccio niente di greve mi prendo semplicemente un cappuccino non mangio niente proverò a consumare soprattutto un po' di frutta e un po' di verdura perché devo riassestare tutto il corpo ho voglia di cibo sano non penso che l'avrei mai detto ma ho proprio voglia di cibo sano proprio perché ieri abbiamo sgarrato con questi cereali e diciamo che abbiamo pure fatto un epic fail comunque adesso ce ne andiamo al fornet facciamo colazione poi andiamo in palestra e poi vi parlo del titolo del video io prendo un solito caffè con le ceresno adoro io prendo un solito caffè con le ceresno adoro io ho il mio cornetto sei riempito il crocino? eh sì latte di soia per mia sorella io mi sono preso il cappuccino e poi non ho resistito a una tentazione e quindi mi sono preso uno di questi panini iberici invece mi sono preso i miei classici due cornetti una spermuta di arancia questa è la nostra colazione post challenge finita lì la colazione questo è il primo punto in questi daily vlogs in cui vi parlo direttamente siamo solamente io e voi Semi sta a casa, sta riposando ha fatto un grandissimo lavoro ieri con l'edit e quindi abbiamo detto dai take the day off rilassati e intanto prendo io il vlog che dovrei saper filmare comunque che ne dite della barba? io voglio sapere cosa ne pensate voi Semi mi ha detto ah Gigi, Gigi devi tenere la barba, stai molto meglio io personalmente mi vedo meglio senza la barba proprio perché non ne ho tanta anche se questa è una settimana quindi magari fra l'altra settimana un po' di più ma non ne ho tanta e senza barba mi sento più squadrato mi sento più, non lo so, mi sento magari un po' meglio però la barba dà il tocco di un pochino più grande quindi fatemi sapere perché è una cosa importante se voi mi dite tagliadra no taglio c'è dei più importanti voi di semi siamo fuori dalla palestra ma mi son dimenticato lo shaker quindi mi faccio il play workout in maniera completamente brutale ce l'ho proprio qua il mio MyPri questo è il MyPri 2.0 se volete ragazzi col muscolo da vita ci avete il 30% off e il 9 e 10 luglio o giuglio 50 avete il 50% off comunque lo facciamo in una maniera più brutale vi appoggio un attimo qua uno scoop diretto in bocca l'acqua era freddissima questo mi parte ci pigliamo dentro ci pigliamo dentro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti